bentornate sul mio canale oggi facciamo insieme questo simpaticissimo scaldacollo che può essere o uno scaldacollo o addirittura una sciarpa dipende soltanto da quando noi facciamo lunga la catenella di avvio io l'ho fatto come scaldacollo e ci ho abbinato questo fiore che poi vi faccio vedere gli schemi e ve li metto anche sotto il no sotto il tutorial non si può però nella pagina e nella community e per realizzare questo scaldacollo io ho utilizzato praticamente tre gomitoli ossia due gomitoli per lo scaldacollo del filato nella lana gatta colico e del terzo gomitolo mi ha avanzato questo perché ci ho realizzato il fiore ma il fiore come ripeto è facoltativo potete anche mettere una spilla un bottone io il bottone l'ho messo come abbellimento potete decidere voi comunque per lo scaldacollo ci vogliono due gomitoli di questo filano filato scusate della lana gatto il colico che ha delle sfumature come vedete bellissime perché sono molto particolari i gomitolini sono da 50 grammi per 113 metri e la casa ci consiglia ferri e uncinetto del 4 4 e mezzo sono il mio colore vi dico subito è il 30 336 ma ci sono tantissime sfumature l'ho preso sul sito www.merceriaflaia.it ho fatto un giro ho visto queste sfumature bellissime e l'ho riacquisto cioè l'ho ripreso per anche altre volte ci ho realizzato vari progetti che voi trovate già sul canale tipo la maglia colico c'è un gilet bellissimo con la rifinitura un po pellicciosa c'è un cappellino quindi è un filato che ho utilizzato anche lo scorso anno quest'anno l'ho voluto riprendere per realizzarci questo simpatico scaldacollo che con soltanto due gomitoli riuscite a farlo e questo scaldacollo è un po per tutti poi come ripeto se da uno scaldacollo vorrete realizzare una sciarpa allora vi consiglio di acquistare cioè di prendere almeno tre gomitoli tre gomitoli anziché due però poi se decidete di fare anche il fiore così grande come l'ho fatto io vi occorre un gomitolo perché ne utilizzerete la metà sembra difficile da realizzare questo progetto ma in realtà è semplicissimo è un multiplo di due quindi dovete avviare un numero di catenelle pari quindi io per me ho avviato 80 catenelle perché come ripeto volevo uno scaldacollo ma per una sciarpa ne potete avviare di più l'importante come ripeto che sia di numero pari la casa come vi dicevo la casa ci consiglia come uncinetto 4 4 e mezzo io ho utilizzato il l'uncinetto del 4,5 per dare morbidezza quindi lo schema come ripeto adesso ve lo faccio vedere ma poi ve lo rimetto anche nel nel gruppo praticamente questo è lo schema se riesco della sciarpa ne dello scaldacollo mentre questo è lo schema del fiore per chi è interessato quindi voi prendete il vostro filato ripeto se volete il mio stesso filato con queste sfumature così particolari lo trovate sul sito www.merceriaflavia.it ma altrimenti potete utilizzare qualsiasi filato l'importante che si lavora con un uncinetto dal 4 4 e mezzo però poi io non vi posso garantire queste sfumature o comunque questa particolarità di questo scaldacollo quindi detto ciò io vi lascio poi link in descrizione con tutti e le tonalità delle sfumature dove voi potete andare a curiosare e vedere anche le altre tonalità allora via della vostra catenella di 80 maglie e ci rivediamo allora voi avrete a vita avviato le vostre catenelle io ne ho avviati un pochino meno perché lo scaldacollo è terminato quindi una volta che voi avete avviato le vostre catenelle e deciso il progetto da realizzare lo scaldacollo o la sciarpa ripassate la catenella a punto basso quindi facciamo una catenella in più e rientriamo nella seconda dall'uncinetto e quindi questo primo giro sono tutte maglie basse quindi andate avanti facendo le maglie basse e poi ci rivediamo noi a fine giro fatto il nostro primo giro ci alziamo con 3 catenelle che la nostra prima maglia alta più una catenella di separazione quindi voltiamo il lavoro saltiamo questo punto andiamo nel successivo e facciamo il punto alto una catenella saltiamo un punto e nel successivo punto alto una catenella saltiamo un punto punto alto quindi andiamo avanti in questo modo fino a terminare la riga ci vediamo quindi a fine giro siamo arrivati a fine giro abbiamo fatto la nostra maglia alta facciamo una catenella carichiamo il filo e nell'ultima maglia facciamo cinque maglie alte tutte separate da una catenella quindi una catenella rientriamo 2 catenella rientriamo 3 catenella rientriamo 4 quindi una maglia alta catenella maglia alta catenella quindi un totale di cinque maglie alte separate tutte da una catenella quindi catenella contiamo una due tre quattro manca l'ultima catenella rientriamo maglia alta catenella proseguiamo lavorando in corrispondenza della maglia sottostante quindi entriamo nella catenella sottostante la maglia alta quindi una catenella saltiamo un punto e andiamo nel successivo catenella saltiamo un punto nel successivo andate avanti in questo modo fino al termine del giro siamo arrivati al termine del giro una catenella dobbiamo rifare la stessa identica cosa che abbiamo fatto da questo lato quindi cinque maglie alte tutte separate da una catenella quindi entriamo nella prima maglia alta e facciamo una maglia alta una catenella e 2 rientriamo maglia alta catenella rientriamo maglia alta catenella quindi in questo caso abbiamo fatto quattro maglie alte separate da una catenella poi una catenella e ci andiamo ad agganciare sulla terza catenella di inizio giro e quindi questo è il nostro secondo giro ecco qui adesso che cosa dobbiamo fare dobbiamo alzarci con una catenella c'è con 3 catenelle che la prima maglia alta quindi una due tre e andiamo a sostituire la nostra prima maglia alta poi maglia alta nell'archetto maglia alta sulla maglia alta quindi questo è tutto un giro di punto alto maglia nell'archetto maglia alta su maglia alta maglia alta nell'archetto maglia alta sulla maglia alta dobbiamo fare questo fino ad arrivare a questo punto quando dove abbiamo fatto l'aumento lo faremo insieme quindi andate avanti e ci vediamo tra poco adesso siamo arrivati all'ultima alla fine facciamo maglia alta nell'archetto e maglia alta sulla prima maglia delle cinque maglie alte separate da una catenella quindi lavoriamo questa nell'archettino di una catenella lavoriamo due maglie alte quindi una e due la maglia alta archettino successivo 2 maglie alte una e due maglia alta sulla maglia alta nell'archettino 2 maglie alte quindi una e due sulla maglia alta lavoriamo la maglia alta nell'ultimo archettino 2 maglie alte 1 e 2 sulla maglia alta la maglia alta ed ecco qui vedete adesso proseguite maglia alta nell'archetto maglia alta su maglia alta maglia alta nell'archetto maglia alta su maglia alta e andate avanti in questo modo fino ad arrivare dall'altro lato quindi ci vediamo tra poco siamo arrivati al termine abbiamo lavorato la maglia alta nell'ultimo archettino della catenella adesso stiamo dove abbiamo fatto l'aumento quindi dobbiamo ripetere la stessa cosa lavoriamo lavoriamo la maglia alta e nell'archettino 2 maglie alte quindi una e quindi due maglia alta sulla maglia alta nell'archettino 2 maglie alte una e due sulla maglia alta la maglia alta nell'ultimo archetto 2 maglia alta una e due e ci andiamo a chiudere sulla terza delle 3 catenelle ed inizio giro e anche questo giro come vedete è terminato adesso c'è il giro degli archetti io gli archetti le ho leggermente modificati che cosa ho fatto allora ho lavorato in questo modo per dare questo effetto ondulato quindi ci alziamo qui con 3 catenelle 2 e 3 carichiamo il filo rientriamo e 2 e 3 maglie alte 3 catenelle rientriamo e lavoriamo altre 3 maglie alte quindi una quindi 2 e quindi 3 in questo modo poi 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 saltiamo 1 2 3 4 5 nella sesta ripetiamo il nostro archetto 2 e 3 l'ho presa male scusate e 3 3 catenelle rientriamo alla base e altre 3 maglie alte 1 2 e 3 andate avanti in questo modo e ci vediamo a fine giro allora in questo caso abbiamo fatto la prima parte logicamente per me è un campione quindi sono 4 ventagli quando ci troviamo nella come dire dove abbiamo l'aumenti si lavora in questo modo sempre con 5 catenelle di separazione ma praticamente che cosa succede si saltano soltanto 2 maglie quindi saltiamo 1 2 e nella terza facciamo il nostro ventaglio quindi 3 maglie alte 2 e 3 3 catenelle rientriamo 3 maglie alte 1 2 e 3 sempre 5 catenelle sempre 5 catenelle 4 4 e 4 5 saltiamo 1 e 2 e nella terza facciamo il gruppetto quindi maglia alta seconda seconda maglia alta terza maglia alta 1 2 3 4 e 5 rientriamo 3 maglie alte 1 2 e 3 1 2 3 4 e 5 saltiamo 2 andiamo nella terza e ripetiamo 2 andiamo nella terza e ripetiamo il nostro gruppetto quindi una quindi 2 3 3 3 catenelle saltiamo rientriamo altre 3 maglie alte quindi 2 e 3 5 catenelle 4 e 5 saltiamo 1 2 nella terza facciamo il gruppo e si riparte e quindi voi sul vostro pezzo originale tanti ventagli avrete da questo lato tanti ventagli del dovete avere da quest'altro lato solo a dove abbiamo fatto gli aumenti solo nelle parti finali dovete avere cinque gruppi di ventagli da un lato e dall'altro quindi andate avanti da questa parte e ci rivediamo quando siamo arrivati alla fine del giro scusate ho fatto un errore no 5 25 gruppetti o 65 ventagli 66 da un lato e stai dall'altro allora siamo arrivati al termine del giro abbiamo fatto le ultime 5 catenelle e ci chiudiamo sulla terza delle 3 catenelle di inizio giro con una maglia bassissima in questo modo e abbiamo terminato anche questo giro adesso facciamo il penultimo giro ed il penultimo giro in che cosa consiste camminiamo con delle maglie bassissime e ci portiamo al centro del ventaglio quindi camminiamo con delle maglie bassissime portandoci al centro così ci alziamo con 3 catenelle che è sempre la nostra prima maglia alta rientriamo e facciamo altre due maglie alte poi facciamo 5 catenelle una due tre quattro e cinque rientriamo e facciamo altre tre maglie alte quindi una quindi due e tre io vi sto facendo vedere da schema poi tre catenelle quindi una due e tre e maglia bassa in questo arco 3 catenelle e ripetiamo il ventaglio formato da una 2 e 3 maglia bassa in questo arco 2 e 3 maglia bassa in questo arco 2 e 3 maglia bassa in questo arco 3 catenelle e continuate in questo modo fino al termine del giro ci vediamo quindi a fine giro intanto voglio farvi vedere una cosa siccome ho terminato il filato e devo aggiungere fare il nodino siccome questi nodini poi sono esteticamente brutti e io tendo sempre a mandarli dove non vedo però sto cercando un modo cercato un modo per far sì che si vedano il meno possibile quindi che cosa ho fatto e sembra che vada bene lo voglio far vedere anche a voi allora prendiamo i due fi i due capi da unire e facciamo così guardate giriamo due volte quindi una due il filo poi facciamo il nodo classico in questo modo e andiamo a tirare vedete a tiriamo bene per bene questi due capi poi prendiamo le forbicine e andiamo a tagliare così 1 e 2 e sembra io abbia trovato il modo giusto per ho tirato troppo poco bisogna tirare di più quindi una scusate una due andiamo a fare il nodo e dovete tirare tirare benissimo ecco adesso ci siamo vedete e poi andate a tagliare spero che sia riuscita a fare farvi vedere lo tagliate abbastanza vicino poi ripeto io ho provato e a me è andata bene in questo modo si vedono un pochino meno quindi detto ciò andiamo avanti e la continuiamo a lavorare il ventaglio quindi 3 maglie alte 3 catenelle rientriamo e facciamo le nostre 3 maglie alte quindi 2 e 3 poi facciamo le nostre 3 maglie 3 catenelle 1 2 3 e la maglia bassa nell'arco quindi fate questo per tutto il giro siamo arrivati al fine giro abbiamo fatto le ultime 3 catenelle ci chiudiamo sulla terza delle tre in inizio giro e questo è il penultimo giro eccolo qui il penultimo giro adesso in realtà manca l'ultimo giro che è semplicissimo adesso dobbiamo fare soltanto maglie basse quindi le maglie basse sulle maglie alte quindi catenella rientriamo e questa è la prima maglia bassa poi seconda maglia bassa sulla seconda maglia alta maglia bassa poi andiamo nell'archetto di 3 catenelle e facciamo 3 maglie basse quindi 2 e quindi 3 poi sulla maglia alta facciamo la maglia bassa maglia bassa maglia bassa qui facciamo 3 catenelle e maglia bassa sulla maglia bassa 3 catenelle e ripartiamo maglia bassa sulle maglie basse e scusate sulle maglie alte e 3 maglie basse nell'archetto delle 3 catenelle quindi andate avanti in questo modo e ci vediamo a fine giro quindi andando avanti in questo modo voi avete terminato il vostro progetto e avrete questo risultato ripeto io ho voluto fare uno scaldacollo che potete indossare come vi ho fatto vedere nelle foto in questo modo mettendo un bottone una spilla ripeto io ho fatto questo fiore che se volete ve lo farò vedere in un prossimo successivo tutorial ma già nel canale qualcosa c'è comunque questo fiore che ho fatto io potete sostituirlo con qualsiasi altro tipo di spilla potete anche ripeto mettere un bottone e cucire direttamente e lo indossate in questo modo potete tranquillamente decidere voi ma ripeto se siete interessati faremo un altro tutorial prossimamente dove io vi farò vedere questo questo fiore intanto ve lo metto vi metto lo schema e poi successivamente proveremo a farlo insieme ma anche questo è molto semplice spero di avervi dato un'idea per un altro regalino con poco perché ripeto con due soltanto due gomitoli fate questo scaldacollo che adesso vi dico anche la misura per darvi una regolata quindi diciamo la mia misura questo mio scaldacollo ha una lunghezza totale di una lunghezza totale di aspettate a faccio vedere a una lunghezza di 76 centimetri e per me è sufficiente perché è uno scaldacollo che comunque rimane comodo non ci tira troppo e come avete visto nelle foto si riesce a indossare tranquillamente quindi 76 centimetri di lunghezza è il mio se vi può essere di aiuto come vedete sono quattro giri dove io vi ho fatto un po vedere le modifiche ho fatto io però mi metto anche lo schema perché per chi vorrà seguire lo schema alla lettera ce l'ha tranquillamente sul canale quindi detto ciò spero che vi ho dato un'idea per questo natale e che magari possiate realizzarlo voi anche con sfumature diverse a me questo filato è piaciuto tantissimo ripeto perché ha le sfumature casuali non sono sfumature lunghe non sono sfumature è una sfumatura particolare perché come vedete si passa dall'arancio ipotesi al bordeaux dal turchese dal dal celeste al verde sono uniche queste sfumature e sono bellissime hanno un effetto faboloso questo scaldacollo io lo abbinerò poi vi farò vedere nelle foto al gilet che già è presente sul canale non ricordo il nome naturalmente ma dovrebbe essere il gilet miriam credo se non vado errata comunque c'è già sul canale poi al limite ve lo ripubblicherò vi metterò le foto detto ciò vi auguro una buona giornata e ci vediamo in un altro tutorial